Mi chiamo Nuccio Montana. Dalla mia più grande passione, la cucina, ho creato e costruito il mio lavoro. Il mio laboratorio è un indreccio di profumi e sapori, di storie, tra tradizione e innovazione, il ristorante Salotto, situato nel centro storico di Agrigento. Un piatto che mi accompagna sin dall'infanzia è la minestra di gamberi e tenerumi. Un piatto povero è la tradizione agrigentina, che da sempre veniva preparato alla mia famiglia, fatto con ingredienti semplici come l'aglio, pomodoro, gamberi e tenerumi, servito con dei crostini di pane gratinati ed impreziositi da olio extravergine in oliva e pistacchi. Il mio piatto racconta una storia di famiglia, la mia famiglia, una famiglia agrigentina. e e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.